mister doppia sfida con il trapani si parte dalla gara di coppa italia tenete a passare il turno ad affrontare il 4 dicembre il genoa o l'obiettivo è focalizzato per l'inizio del campionato no no ci teniamo ci teniamo assolutamente è giusto onorare tutte le competizioni è evidente che incontrare per due volte di fila la stessa squadra è una cosa un po anomala e che però ci è successo e quindi chiaramente vanno fatti tanti tipi di ragionamenti però affrontiamo una partita dietro l'altra e quindi questa partita siamo concentrati per provare a vincerla qual è la situazione fisica dei suoi ragazzi e su quali non potrà contare nel match di domani ma la situazione fisica generale è buona ci sono alcune situazioni qualche affaticamento muscolare un paio di giocatori che hanno un'infiammazione tipo tipo brosco ed elia che sono sarebbero arruolabili se fosse stato campionato ma non vedo la il caso di sfruttare per una gara di coppa italia quindi probabilmente avranno in panchina ma non saranno della partita potremmo vedere i titolari sia ferigra che pucino ma adesso vediamo adesso vediamo ho ancora un giorno a disposizione per pensare sto facendo sto facendo dei ragionamenti se è il caso di insomma vedere qualcuno che finora non ha non ha giocato molto penso che questa sia una delle possibilità e in previsione anche che avremo poi la prima di campionato insomma con la stessa squadra quindi non dare neanche troppi punti di riferimento credo sia sia giusto pensarci avanti col 4 3 1 2 sto pensando a qualcosa di diverso no vabbè sull'aspetto tattico stiamo lavorando su questo anche se abbiamo un modo di giocare abbastanza d'utile con gli attaccanti siamo molto mobili molto dinamici credo che questo sia importante al di là del calcio poi sul sulla carta credo sia importante non dare punti di riferimento agli avversari insomma senza mancare senza poi far mancare anche l'apporto del pubblico l'apporto del pubblico è fondamentale so che torneranno i nostri ultras finalmente quindi ci teniamo anche a a far subito una bella figura perché noi abbiamo bisogno della nostra totalità del pubblico che è un grande pubblico un pubblico di serie a e vogliamo averlo assolutamente dalla nostra parte quindi per per fare questo dobbiamo rispondere al suon di prestazioni e soprattutto con prestazioni coraggiose che che possano come ho detto altre volte essere degni di una tifoseria del genere il trapani di baldini che si è rinforzata nelle ultime ore con due difensori come del perete fornasier anno evacuo molto esperti in attacco come si affronterà tatticamente questa squadra ma innanzitutto è una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato diciamo è passato in b e quindi sicuramente sono per certi versi molto più rodati di noi è evidente che a livello di individualità è una squadra che affronta la serie b e quindi come tutte sono partite difficili sono partite che non vanno mai prese sotto gamba al di là che sia la coppa italia o il campionato noi dobbiamo mettere in campo quelle che sono le nostre qualità in questo momento sono molte quindi consapevoli della nostra forza ma sempre grande rispetto dell'avversario